Ragazzi anche oggi siamo a Firenze, 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 Firenze e ora se si trova qualcuno che ci fa di farne qualche domanda su come ha visto la partita tra Juventus e Fiorentini si fa, speriamo di un pigliar due alzotti in bocca Ragazzi per ora non me la sono sentita di far domanda a nessuno perché li vedevo abbastanza neri però ora siamo ai Dragonfly, aperitivone, pub, storio di Firenze, tanta roba Eccoci ragazzi ora si sta andando, si sta andando a farsi i capelli e almeno visto che non si è fatto domanda in giro per Firenze nel video vi porterò i capelli di Gobbo Toscano, i capelli, il fashion style il Gobbo Toscano fashion style Eccoci qua finito, finito da Gobbo Toscano fashion style abbiamo finito il nuovo look per le prossime live ovviamente consigliato come sempre da mia moglie perché l'anniversario si fa decidere anche il look del Gobbo Juventino, di Gobbo Toscano fashion style quindi dalle prossime live mi vedrete così fino alla fine Forza Juve e ancora auguri a me e a mia moglie ti amo